giornata campale quello che sta vivendo napoli ancora in queste ore ombrelloni che volano stamattina un'intera impalcatura di un fabbricato di quattro piani in via Nello Falcone collassata su se stesso sotto la spinta possente del vento che sta viaggiando ancora adesso a 40 km orari la pioggia abbattente che ha sversato la città tutta la mattinata fortunatamente si è fermata ma continuano a farsi registrare crolli ed altri danni gravi quali la caduta di un pino secolare in piazza Cavour in via Cesare Rossarol l'intonaco di una facciata è crollato si è distaccato violentemente e battendo a terra sulle auto sotto fortunatamente in nessun caso ci sono vittime non si sono registrate vittime se non danni alle cose tutte le tre auto sono state completamente distrutte Salvatore Rosa ha pagato il suo pegno un'intera parte d'intonaco di questo fabbricato è crollata sul posto chiaramente ci stanno i giorni noi stiamo chiamando sul giro per raccontarvi questa drammatica giornata devastante per la città contiamo di avere al telefono anche l'ex assessore alla risorsa mare Daniella Villani per poterci raccontare la sua esperienza vissuta questa mattina ed eccoci qua siamo giunti piazza Cavour dove fortunatamente questo enorme pino secolare è collassato sotto la spinta del vento solo per miracolo non ci sono state vittime o feriti molti danni tre le auto completamente distrutte e dobbiamo dire che sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi per verificare la situazione e lo stato delle cose queste questa è una una delle utile queste è una propietà che stanno provvedendo a sistemarla inizio del Comune la Polizia Urbana per i rivieri del Casso così come è accaduto anche in via Agnello Falcone per verificare se ci stanno delle responsabilità a un atto dovuto sono immediatamente giunti sul posto ci confermano che non ci sono state né vittime né feriti e questo ci dà veramente un attimo di gioia Siamo in collegamento con l'ex assessore alle risorse del mare dottoressa Daniela Villani che stamattina è stata testimonia quasi vittima di uno di questi tanti crolli che si sono verificati dottoressa se ci racconta gentilmente quello che è successo Buongiorno buongiorno a voi sì purtroppo stamattina a Napoli in via Santa Caterina da Siena l'ennesimo cornicione è crollato davanti ai miei occhi e solo diciamo veramente per fortuna non si è evitata la tragedia diciamo che io ero a un secondo dal crollo infatti ho ingoiato la polvere di tutti i calcinacci che sono caduti dal quinto o sesto piano di quel palazzo antico che era naturalmente in evidente scarsa manutenzione anzi direi totale ecco la paura è stata forte e come potrei immaginare solo per un caso diciamo i ragazzi non c'erano c'erano passanti c'ero solo io ed ero diciamo a un secondo dalla tragedia e quindi la lunga lista dei morti che diciamo purtroppo abbiamo da Cristina Longi Dario Natale Rosario Palladino e Giordano Salvatore quello lì che è morto sotto la galleria Fabiola Di Capua insomma solo per una fatalità non sono stata anch'io in questa lista e non si può continuare a vivere in una città dove si muore camminando ecco salviamo Napoli a came dic grammi e di ывайтесь lleg a ti att ch всех sono alle ch con a